Margherita Peluso è Marta Abba. Sì, esattamente. La musa ispiratrice di Luigi di Rambello. Sì. Invece lei a cosa si è ispirata per entrare nel personaggio? Io mi sono ispirata alla sua grande forza, forza fisica, la sua grande capacità di entrare in qualsiasi personaggio, la sua capacità di essere così profonda, così presente, ecco. Io mi sono ispirata alla sua presenza, alla sua grande presenza. Infatti oggi, adesso ho appena finito il trucco, quindi sono un po' tra Margherita e Marta Abba, sono un po' in between tra i due personaggi. È stato complicato entrare nel personaggio? Lei mi è entrata dentro fin dall'inizio, quindi in realtà avevamo comunque qualcosa in comune. Infatti questo documentario parlerà anche di questo, di questa universalità anche tra un attore e Marta Abba, un'attrice e Marta Abba. In questo caso sono io e per me lei è entrata dentro subito. La sua storia è molto vicina alla mia, poi lei è nativa di Milano, io anche, ma le mie origini sono modicane, quindi è il mio cuore, la mia terra e la Sicilia. Ecco, essere qui in questo teatro invece è cosa rappresenta? Ma per me è una grande emozione, infatti ho i brividi. Sento l'energia di questo teatro che è forte, tanta storia, grandi personaggi che hanno cavalcato questo palco e poi è straordinario questo teatro, quindi mi dà una grande carica. Poi questa è la scena finale, quella che stiamo andando a registrare e quindi sono molto emozionata. Il teatro Pirandello ovviamente è una location ideale per un film che narra di Marta Abba, la musa di Pirandello. Tra l'altro sappiamo che Marta in tarda età ha recitato qui ad Agrigento, credo proprio in questo teatro che forse era in un'altra forma. Beh, un docufilm impegnativo perché stiamo raccontando una storia fondamentalmente inedita che a livello cinematografico non è stata mai raccontata, quella appunto di Marta Abba. E Agrigento è ovviamente una tappa necessaria perché Marta Abba era molto legata alla Sicilia in quanto molto legata appunto al premio Nobel Pirandello. Fuori dal teatro gireremo qualche immagine di Margherita appunto che entra a teatro, ma ad Agrigento gireremo anche all'interno della Valle dei Templi, ovviamente alla Casa Museo Pirandello. E ieri abbiamo girato in una bellissima spiaggia che è quella di Siculiana Marina.